Arrestato per furto un infermiere dell'ospedale civico di Palermo Prima ruba medicinali e attrezzature dall'ospedale civico e poi una volta scoperto tenta di corrompere i carabinieri Con l'accusa di furto aggravato, ricettazione, istigazione alla corruzione e detenzione di medicinali imperfetti è stato arrestato un infermiere di 44 anni, ALG, originario di Racalmuto L'uomo in servizio al reparto di rianimazione dell'ospedale stava rientrando nel suo paese natale per il pranzo e per festeggiare la giornata festiva quando è stato fermato dai carabinieri Durante il normale controllo i militari hanno rinvenuto nel vano bagaglio centinaia di medicinali e strumenti sanitari vari confezionati per uso esclusivo ospedaliero Tra il materiale trovato due bombole di ossigeno, due pompe di infusione del valore di circa 1.500 euro l'uno pinze e bisturi utilizzati in sala operatoria innumerevoli medicinali di vario genere alcuni dei quali costano al pubblico anche alcune centinaia di euro Nelle sue case di Palermo e Recalmuto sono stati rinvenuti altri farmaci e strumenti sanitari Tutto il materiale per un ammontare di oltre 10.000 euro è stato posto sotto sequestro L'infermiere ha tentato di corrompere inoltre due militari ai quali ha offerto soldi in cambio del loro silenzio Adesso è caccia ai complici Secondo i militari è davvero difficile che un infermiere possa da solo trasportare tutti questi medicinali e attrezzature senza complici nei depositi dell'ospedale e nella farmacia del nosocomio Appartamenti come Pizzo a Palermo scattano sei ordini di custodia La squadra mobile di Palermo ha eseguito sei ordini di custodia cautelare nei confronti di altrettanti mafiosi accusati di avere storto denaro e appartamenti a un gruppo imprenditoriale che lavora nell'edilizia e nel settore della ristorazione I provvedimenti firmati dal GIP Gian Gaspere Camerini che ha accolto la richiesta d'EPM Francesco Mazzocco e Caterina Malagoli sono stati notificati in carcere a quattro persone mentre altre due Francesco Lombardo e Carmelo Sacco sono state arrestate In cella erano già Giacchino Corso considerato il capo della famiglia mafiosa di Santa Maria di Gesù Gian Paolo Corso, Antonino Sacco, fratello di Carmelo e Francesco Francofonti Secondo la ricostruzione dell'accusa nel gruppo c'era anche Giuseppe Calascibetta assassinato il 19 settembre del 2011 Tornato in libertà dopo essere stato assolto dall'accusa di aver avuto un ruolo nella strage di Via D'Amelio Calascibetta aveva ripreso a imporre il pizzo a imprenditori edili Quest'ultimi intercettati dalla polizia dopo aver visto che il capo mafia era stato assassinato avevano commentato E' stato lui che si è fottuto 220.000 euro Oltre che con la consegna di denaro contante le estorsioni venivano realizzate con l'imposizione di fornitura a un prezzo che andava ben oltre i valori del mercato anche con l'80% in più e con false compravendite di appartamenti che in realtà i mafiosi corso si fecero regalare per cederne uno a suo cugino Nelle intercettazioni gli imprenditori si lamentavano del fatto di dover mantenere i mafiosi nulla facenti col proprio lavoro e sostenevano di essere stati costretti a licenziare operai per pagare il pizzo Soldi non ce ne sono più nemmeno per noi, dicevano fra l'altro e i boss rendendosi conto della crisi ma non rinunciando per queste le proprie pretese si facevano cedere appartamenti gratis Palermo, arrestati due rapinatori Sono scattate le manette per due giovani palermitani nulla facenti con precedenti per rapina, furto, violenza e minaccia pubblico ufficiale I due hanno aggredito alle spalle due studenti universitari che erano appena usciti dal mercato Vucciuria I malviventi, dopo aver colpito con pugni e schiaffi le due vittime li hanno derubati di ogni avere Nel corso dell'aggressione il sangue aveva sporcato il piumino bianco di uno degli aggressori L'esatta descrizione dei due rapinatori ed il particolare del piumino sporco di sangue ha permesso di rintracciare i due ai quali, dopo una perquisizione, è stata rinvenuta anche della sostanza stupefacente di tipo hashish sottoposta a sequestro I malviventi così, dopo essere stati riconosciuti dalle vittime sono stati arrestati con l'accusa di rapina aggravata in concorso Impennata di furti e scippi a Partinico La cittadina vive un momento davvero particolare per ciò che riguarda la sicurezza e l'ordine pubblico Tanti furti in appartamento gli scippi per le vie del centro storico a danno di persone anziane unitamente ad una vera e propria attività predatoria dei villini e delle case di villeggiatura Con la grave crisi tutto fa brodo e i malviventi non rinunciano a nulla dai soldi all'oro, dalle tv ai computer I cittadini vivono in uno stato di terrore collettivo e lamentano la carenza di controlli del territorio e più di qualcuno osa affermare che si stava meglio quando si stava peggio Le forze dell'ordine fanno il possibile ma il territorio è molto vasto e certamente servirebbero più uomini e più mezzi per poter meglio controllare il territorio del partinicese Da queste parti lo Stato sembra essere presente solamente in materia di tasse e i cittadini fanno appello alle istituzioni perché questo territorio possa essere attenzionato adeguatamente con una maggiore presenza di uomini e mezzi dalle forze dell'ordine In tante famiglie ormai ci si organizza come si può con l'installazione di allarmi, di telecamere e persino non lasciando ingustodite le abitazioni che vengono prese di mira anche in pieno giorno magari appena i proprietari escono di casa per andare a fare la spesa Una situazione di micro criminalità fomentata anche dalla forte crisi economica che è imperversa e spinge tanti ad arrangiarsi come meglio possono a scapito spesso di persone anziane sole e indifese Sembra che i ladri abbiano deciso di festeggiare alla grande da queste parti il cinquantesimo anniversario dell'istituzione di Diabolic Ma i cittadini sono stanchi e delusi e chiedono aiuto ad uno stato spesso latitante Facciamo appello al signor prefetto al signor questore al comandante provinciale dell'arma dei carabinieri perché possano attenzionare questa situazione ponendo in essere modalità operative per il controllo capillare del territorio evitando che qualche cittadino colto da esasperazione e disperazione possa porre in essere qualche gesto in consulto nel tentativo di farsi giustizia da solo Minacciò la moglie di morte un non balestratese condannato Condannato un uomo accusato di aver minacciato di morte la moglie e danneggiato la porta d'ingresso dell'abitazione di lei pronunciando nei suoi confronti frasi oscene, offensive e dal contenuto intimidatorio la donna in conseguenza di ciò era stata costretta a lasciare l'appartamento che aveva in affitto e dove viveva con il figlio di appena due anni all'epoca dei fatti, sei anni fa tra i coniugi era in corso la procedura di separazione legale a conclusione del processo il giudice ha ritenuto sufficiente il materiale probatorio ritenendo Giuseppe Licari trentenne di balestrate responsabili dei reati contestati e condannandola a un anno di reclusione oltre al pagamento delle spese processuali all'uomo è stato inoltre imposto un risarcimento in favore della moglie l'imputato è stato condannato a diffondere le spese legali sostenute dalla stessa parte offesa quantificate in complessivi 1200 euro i fatti risalgono al 13 agosto del 2006 sul posto quella sera intervennero i carabinieri della compagnia di Partinico a riportare la calma per Licari cominciarono così i guai giudiziari conclusosi adesso con un verdetto di condanna ruba un motociclo i carabinieri arrestano un giovane egiziano sono scattate le manette per un egiziano di 25 anni domiciliato a Palermo per reato di furto aggravato il malvivente è stato sorpreso alla guida di un motociclo Aprilia Scarabeo rubato poco prima che a sua volta era trainato da un complice il giovane è stato così sottoposto al rito direttissimo e all'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria Puscher arrestato sorpresa spacciare Ashish i carabinieri hanno arrestato Salvatore Di Fresco palermitano disoccupato per spaccio di sostanze stupefacenti i militari lo hanno notato mentre buttava a terra un involucro nella speranza di non essere visto così è scattata la perquisizione sia sulla persona che all'interno del garage dove è stato trovato un pacchetto di sigarette con all'interno 13 dosi di Ashish confezionate ciascuna con carta stagnola per un totale di 15 grammi pronta per essere spacciata al dettaglio il Di Franco dopo un interrogatorio ha ammesso che l'unico suo sostentamento era appunto il ricavato dello spaccio della sostanza stupefacente il malvivente così è stato condotto presso Lucciardone intensificati i controlli a Cefalù per il lungo ponte di Halloween dei defunti nelle ultime settimane soprattutto durante l'ultimo weekend i carabinieri della compagnia di Cefalù hanno attuato una serie di servizi determinati al controllo del territorio e svolti soprattutto al controllo preventivo della circolazione stradale i militari hanno svolto appositi servizi di prevenzione su strada monitorando in primo luogo il flusso veicolare della movida notturna nel corso dei controlli effettuati in vari comuni del circondario Madonite è stato denunciato una persona per porto di oggetti atti ad offendere poiché a seguito di perquisizioni personali addosso è stato trovato in possesso di un coltello del genere vietato per il medesimo reato è stato deferito anche un altro utente il quale nella stessa circostanza è stato inoltre sorpresa a guidare stato di ebbrezza altre due persone sono state deferito in stato di libertà una per guida sotto l'effetto di alcol l'altro per guida senza patente un giovane è stato sanzionato inoltre in via amministrativa per manifesto ubriachezza e luogo pubblico sul fronte della circolazione stradale sono state elevate diverse contravvenzioni per violazione al codice della strada che hanno portato complessivamente alla decurtazione di 25 punti al ritiro di una patente ed a un fermo amministrativo di un veicolo 150 sono stati mezzi controllati e 180 le persone identificate continua la protesta Gesip e Quattrocanti dopo la pausa festività tornano a protestare dipendenti della Gesip i lavoratori della società partecipata del comune di Palermo hanno organizzato un presidio ai quattro canti mandando il tilt il traffico in tutta la zona nel frattempo davanti a Palazzo delle Aquile continua lo sciopero della fame di alcuni manifestanti sempre in piazza Pretoria rimane anche la dipendente che da quasi una settimana dorme in auto perché non può permettersi di pagare l'affitto di casa le proteste sono scattate dopo l'incontro di lunedì in prefettura l'accordo sulla cassa integrazione infatti pare ancora lontano Apre Giovani il primo corso di formazione all'impegno sociale e politico l'iniziativa è della Chiesa Madre di Partinico favorire la partecipazione dei giovani alla vita sociale e politica attraverso un'adeguata formazione con questo obiettivo Apre a Partinico il primo corso di formazione all'impegno sociale e politico l'iniziativa è della Chiesa Madre di Partinico patrocinata dal comune è sponsorizzata dalla Banca d'Orrizzo e dal Consorzio COSAR il corso nasce dall'esigenza di risvegliare l'interesse dei giovani per l'ambito socio-politico affinché siano pronti a servire la comunità civile nella forma dell'impegno politico inoltre è una formidabile opportunità per i giovani per renderli protagonisti e non spettatori passivi degli eventi politici e sociali del nostro territorio dal Vescovo di Cefalù una lettera contro Halloween la festa di Halloween manipola la visione cristiana della vita e della morte e quanto pensa il Vescovo Vincenzo Mansella che ha scritto una lettera ai sacerdoti della Diocesi per il presule si tende a sradicare il ricordo dei santi e dei defunti non possiamo permettere scrive che una festa neopagana in chiave carnevalesca riservata alle streghe prende il sopravvento sulla solennità di tutti i santi e la commemorazione dei nostri cari fedeli defunti la cappella di Peppino Impastato torna pulita la cappella che ospita la tomba di Peppino Impastato e della mamma Felice Bartolotta nel cimitero di Cinisi torna a splendere nel giorno in cui si festeggiano tutti i santi a pulire la cappella dagli escrementi di piccioni che l'avevano invasa il fratello del militante di democrazia proletaria ucciso dalla mafia il 9 maggio del 78 ho trovato e provveduto a eliminare nuo nini di piccione ci spiega Giovanni Impastato la tomba di Peppino è molto visitata e spesso chi passa da qui per portare un fiore o lasciare un messaggio dimentica la porta aperta per questo la cappella è stata invasa dai piccioni che hanno scelto questo luogo per nidificare arrestato a Palermo per furto di bici elettrica i carabinieri nel corso di un servizio finalizzato alla prevenzione e repressione dei reati di furto e rapine hanno arrestato per furto aggravato Luciano Lattanzi palermitano 25enne nulla facente pregiudicato con precedenti specifici la pattuglia ha sorpreso Lattanzi mentre armeggiava una bicicletta elettrica con pedalata assistita rubandola all'interno di un androne condominiale l'abile ladro dopo essere riuscito a scardinare la catena che bloccava la ruota anteriore alla bici si è allontanato frettolosamente nel tentativo di eludere il controllo ne è scattato un immediato inseguimento ma alla fine il malvivente è stato bloccato e sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari raddoppiata la tassa sulla casa a Montelepre San Giuseppe Iato rincari Tarso a San Cipirrello passa al Consiglio Comunale Monteleprino la proposta di aumento della tassa dell'IMU sulla prima e la seconda casa una decisione presa a maggioranza dopo 12 ore di seduta oltre alla proposta della minoranza di ridurre le aliquote dell'IMU è stata bocciata anche quella dell'ufficio comunale di aumentare di due punti dal 6 all'8 per 1000 l'aliquota dell'IRPEF abbiamo lottato per 12 anni e ferma il capogruppo di minoranza Giuseppe Faro Sapienza ma il sindaco e la sua maggioranza alla fine con la forza dei numeri hanno fatto un regalo che troveremo sotto l'albero di Natale una decisione dolorosa ma necessaria ha replicato il sindaco Giacomo Tinervia abbiamo dovuto fare questa scelta anche per tutelare il posto di lavoro degli impiegati al municipio mantenendo invariati i servizi è lo Stato che ci sta uccidendo e lo sanno tutti tranne l'opposizione intanto un'altra stangata potrebbe arrivare con l'aumento del 30% della Tarsu tassa questa che cresce del 75% a San Cipirello dove il sindaco Tonino Gianmalva ha dichiarato che i minori trasferimenti statali e regionali hanno fatto sì che fossero i cittadini a pagare il conto un aumento che investe indistintamente tutti gli immobili rimangono invece invariate a San Cipirello l'Imu e l'IRPEF a differenza del comune di San Giuseppe Iato dove l'IRPEF sale dallo 0,5% allo 0,7% e l'Imu passa dallo 0,76% allo 0,86% per la seconda casa i laboratori e i negozi per le abitazioni principali passa invece dallo 0,40% allo 0,50% può sembrare una manovra rigida affermato il sindaco Davide Licari ma è stata necessaria per pareggiare il bilancio a causa dei tagli regionali e statali Carini restano invariate le aliquote Imu confermate per l'anno 2012 dall'amministrazione comunale di Carini le aliquote base stabilite dal governo Monti prima casa allo 0,4% ed altri immobili allo 0,76% in un momento particolare di grave crisi economica in cui molti comuni aumentano le aliquote Imu già a partire dal 2012 per rimediare i tagli del governo il comune di Carini ha deciso di non aumentare la pressione fiscale comunale e di coprire i tagli del governo riducendo ulteriormente la spesa comunale così il sindaco di Carini Giuseppe Agrusa spiega la decisione del Consiglio Comunale aggiungendo che recentemente il Consiglio ha approvato l'equilibrio del bilancio basato su una rigorosa politica di risparmio comunale precisa ancora che tale manovra costituisce un'importante decisione con la quale l'amministrazione comunale ha voluto dare un segnale di coesione sociale a sostegno delle famiglie che in questi mesi stanno vivendo situazioni di grosse difficoltà nonostante i comuni si continuino a tagliare risorse importanti destinate ai servizi dei cittadini e dalle opere pubbliche lasciandogli come unica alternativa quella di aumentare le aliquote ai propri cittadini terrasini terrasini il consiglio comunale boccia l'aumento del limo e il comune rischia il dissesto finanziario il dibattito in aula consigliare è stato molto animato sentiamo il parere del sindaco Massimo Cucinella e del capogruppo di opposizione terrasinus Norino 20 miglia da dove prendiamo questi soldi va bene visto che c'è bocciato limo è giusto allora sindaco di terrasini il consiglio comunale ieri sera ha bocciato l'aumento del limo da dove pensate poter reperire questi soldi per il bilancio comunale partiamo dal presupposto innanzitutto che l'esigenza comunicata dagli uffici di aumentare limo era occasionata dai tagli fatti allo Stato dalla Regione l'ultima legge regionale approvata pochi giorni prima credo uno o due giorni prima dell'elezione hanno comportato dei tagli e soprattutto una diversa distribuzione degli trasferimenti già ridotti che venivano assegnati ai comuni quindi la manovra richiesta dagli uffici serviva ad equilibrare il bilancio che abbiamo approvato in giunta e quindi dobbiamo andare ora a rivedere perché si rischia il dissesto finanziario qualcuno ha ritenuto ieri di fare una cortesia ai cittadini non aumentando l'alicota del limo probabilmente il rischio maggiore che si andiamo in conto è quello del dissesto finanziario con la conseguenza che per 5 anni tutte le alicote tutte le tasse vanno a schizzare al massimo per cui la manovra proposta dagli uffici era finalizzata a contenere un rischio che si fa sempre più imminente noi chiaramente cercheremo in tutti i modi di evitarlo perché riteniamo che è nostro dovere nei confronti dei cittadini tentare l'impossibile per evitare il dissesto finanziario e non è una questione di apparenza o di voler dimostrare di essere bravi il problema è che bisogna avere la capacità per chi riveste incarichi istituzionali anche di assumersi il compito e l'onore di scelte non popolari non populiste o comunque sgradite anche alla gente ma nell'interesse della gente che è quello sicuramente di vedersi non aumentate le tasse in maniera sconsiderata e incondizionata In un contesto di spending review il cittadino avrebbe un vantaggio dal non aumento dell'Immu ma cosa potrebbe piombare nelle sue tasche? Qualcuno ha sostenuto ieri che è facile fare la spending review basta eliminare tagliare ridurre le spese per gli amministratori non è questo e c'è la disponibilità parte nostra a farlo non sono questi i problemi dell'equilibrio del bilancio quasi si rischia di non poter assicurare nessun altro servizio e quindi andare a tagliare anche quei servizi pochi che attualmente stiamo dando perché da un anno tagliamo e conteniamo e cerchiamo di ridurre qualsiasi tipo di spesa oggi siamo nelle condizioni di dover ulteriormente fare questo per dirne una la riduzione dei trasferimenti e il mancato entroido del gettito che normalmente dovrebbe derivare comporta una contrazione anche nel pagamento dei servizi che ci vengono date una per tutti quello della raccolta dei rifiuti il mancato gettito comporta andare a ricercare altrove per poter sopperire alle carenze di bilancio noi è chiaro che continueremo nell'attività che già stiamo portando avanti che era stato comunicato al Consiglio Comunale di una ricerca quindi di un'emersione dell'evasione gli uffici avevo comunicato ieri al Consiglio Comunale che l'impegno che avevamo assunto a settembre e all'indomani dell'approvazione del Limo lo stiamo portando avanti ma scopare gli evasori soprattutto quelli totali è difficile non è un'operazione che si fa dall'oggi al domani occorre un lavoro certosino di andare a spulciare e deve continuare quello sicuramente continuerà si aggiungerà sicuramente un'ulteriore spending review e quello che la Giunta dovrà o potrà fare certamente verrà fatto perché la città di Terrasini non merita il dissesto che non è provocato dall'amministrazione o dal Consiglio Comunale è provocato da tagli indiscriminati del Governo Nazionale e del Governo Regionale che per quadrare i bilanci quando arrivano le notizie noi sentiamo al telegiornale nazionale le notizie da parte del Governo Centrale che ha effettuato le riduzioni sugli enti locali la conseguenza è questa loro riducono noi dobbiamo aumentare per poter assicurare servizi e per non avere il dissesto finanziario che ripeto è la iattura più tragica che può arrivare ad un comune devo dirle l'ultima per chiudere non è i comuni del comprensorio Partinico Cinesi che hanno portato al 10,26% la liquida Imo i comuni gli amministratori i consiglieri comunali non sono sconsiderati ma hanno valutato che per salvare il loro ente bisognava assumersi responsabilità anche non gradita alla gente a Terrasini questo non è avvenuto probabilmente per un gioco politico qualcuno vuole fare delle pressioni sull'amministrazione ma questo ne prendiamo atto e consideriamo e cosa che considero attualmente che probabilmente qualcuno non ha la qualità o lo spessore istituzionale per sentirsi della maggioranza Morreale da lunedì l'AMAT sospende il servizio di trasporto per mancato pagamento la presidenza della società AMAT ha deciso di sospendere dal prossimo lunedì le corse che collegano Palermo a Morreale una decisione scaturita dal mancato pagamento delle fatture e scadenza chiesto dalla società al comune di Morreale già dallo scorso 9 ottobre a renderlo noto è Salvino Caputo parlamentare del PDL all'Assemblea regionale siciliana che lancia un appello al presidente di AMAT e al prefetto di Palermo affinché sia sospesa la decisione di interruzione del servizio di trasporto per evitare ulteriori danni e disagi ai cittadini di Morreale e dalle attività commerciali oltre all'aumento delle tasse dichiara Caputo l'interruzione del servizio aggrava la situazione e provoca gravissimi disagi ai numerosi cittadini che per motivi di studio lavoro si recano a Palermo siamo di fronte a una situazione drammatica afferma ancora Caputo e l'amministrazione comunale dimostra gravissime difficoltà a fronteggiare una situazione prossima al dissesto economico e finanziario mi auguro che il presidente di AMAT possa evitare la sospensione e chiederò al governo della regione conclude Caputo di intervenire per evitare che Morreale possa subire gravi disagi per la sospensione del servizio di trasporti oltre ai gravissimi danni alle attività economiche con ripercussioni negative su livelli occupazionali E' prevista per domani mattina dalle 8 alle 12 in piazza municipio a Partinico la seconda giornata della campagna per il recupero dei rifiuti ingombranti promossa da Ato Rifiuti ed Amministrazione Comunale di Partinico e denominata Il tuo paese non è una discarica l'obiettivo è quello di sensibilizzare i cittadini sul corretto smaltimento di frigoriferi televisori ed altri elettrodomestici oltre che di mobili materassi e divani la prima tappa dello scorso 20 ottobre ha registrato un discreto successo con il recupero di circa 5 tonnellate di ingombranti grazie alla partecipazione di una sessantina di cittalini sottolinea l'assessore all'ambiente Giovanni Pantaleo abbiamo lanciato questa campagna per promuovere il valore del corretto smaltimento dei rifiuti i primi dati dimostrano un'attenzione crescente da parte della cittadinanza rispetto ai primi esperimenti dei mesi scorsi le campagne pubbliche di recupero degli ingombranti hanno fatto incrementare di molto la risposta dei cittadini conclude il sindaco Salvolo Biondo l'ultima tappa di qualche settimana fa ha registrato una buona partecipazione con 5 tonnellate di rifiuti recuperati invitiamo pertanto i cittadini dicono i due amministratori ad essere ancora più presenti onorevole D'Antoni il lavoro che non c'è lei è stato segretario generale della CIS per tanti anni oggi parlamentare ecco le proposte avanzate dalla Fornero e dal governo Mondi io penso che bisogna dare una nuova impostazione a tutta la politica economica perché bisogna ripartire dalle zone deboli dalle aree deboli dai ceti deboli quindi bisogna che la priorità meridionale diventi la vera agenda del governo Mondi oggi e del nuovo governo fra 4-5 mesi quando ci sarà nell'ultima manovra del governo Mondi aumenta l'IVA di un punto percentuale soprattutto sui beni di prima necessità e c'è una diminuzione dell'IRPEF ma che non riguarderà le fasce deboli della società sì noi pensiamo che questa manovra vada cambiata in Parlamento stiamo discutendo proprio in commissione per farla cambiare aumentare l'IVA quella del 10 all'11 è proprio sbagliato perché lì ci sono genere alimentari ci sono genere di prima necessità che non si possono assolutamente toccare contemporaneamente noi pensiamo che bisogna fare un intervento più mirato diciamo sul lavoro dipendente cioè in questo momento è opportuno dare un po' di soldi a chi oggi non ha la maniera di arrivare a fine mese la figura di Renzi all'interno del PD ma Renzi è una figura positiva una figura che lavora ad allargare il campo io penso che noi dobbiamo accettare democraticamente che ci sia questo confronto noi siamo un vero grande partito democratico io sosterrò lealmente Bersani perché penso che per governare un paese difficile come l'Italia ci vuole una persona di esperienza capace che sia in grado di affrontare i grandi problemi che l'Italia ha Dandone da Rottomare eh no io sono un giovane della politica la mia esperienza è tutta sindacale quindi da questo punto di vista penso che continuere a dare il mio contributo io lavoro in una generazione io ho sostenuto in Sicilia e sostengo un giovane segretario regionale del PD Giuseppe Lupo proprio perché penso che una nuova generazione si deve misurare e noi che siamo dell'altra generazione deve aiutare questa nuova generazione quindi il problema è che c'è un ruolo per tutti non bisogna Rottomare bisogna mettersi al servizio che è un'altra questione il termine Rottomare è sbagliato ed è proprio il segno di un errore qui il problema è diverso bisogna fare un grande cambiamento ma utilizzando anche le esperienze positive che nel paese e nel partito ci sono Oggi ricorre la festività dei morti un gonfalone per ricordare i defunti come ogni anno il 2 novembre alle 10.30 ricordiamo tutti i defunti con la partenza dal comune di Partenico dalla sede centrale e poi arriviamo qui e quindi poi c'è la Santa Messa per ricordare tutti i defunti di Partenico che negli anni sono morti come al solito un grande ringraziamento va a tutto il personale che si è prodigato in questi giorni abbiamo avuto la chiusura totale con un'ordinanza nei giorni di 30 e 31 per permettere di pulire tutto il cimitero quindi un ringraziamento va a tutti i ragazzi del servizio civile 13 ragazze che hanno contribuito a pulire il cimitero e a renderlo decoroso un ringraziamento va anche al personale interno nostro alla protezione civile che come al solito come ogni anno assicura la sua presenza quindi è un momento di preghiera di ricordo che tutti i cittadini appunto fanno ricordano per il 2 novembre